Una Lombardia più vicina ai cittadini, che sappia ripensare in chiave moderna e sostenibile servizi cruciali come sanità e trasporti. Così i 5 Stelle avviano la corsa alle regionali scegliendo di sostenere il candidato PD, Maiorino. Abbiamo fatto una scelta che veda al centro la sanità, il trasporto pubblico, l'ambiente. E sulla base di questo programma abbiamo convenuto, non essendo maggioranza, che il candidato potesse essere un candidato del PD. In questo caso si tratta di Pierfrancesco Maiorino, che ci ha convinti, perché comunque ha una storia di amministratore locale, ha una storia di amministratore locale che si è impegnato nel campo del sociale, che non è stato mai possibile criticare per comportamenti personali inopportuni. E quindi ci ha convinto anche la qualità personale e le idee dello stesso candidato. Perché, ahimè, il PD non sono tutte le stesse persone. Non avremmo fatto la stessa scelta se il candidato fosse stato, per esempio, Cottarelli, che interpretava una politica di rigore, di tagli, senza nulla dire sulle qualità personali. Ma non era quell'alleanza progressista che volevamo. Ma che Lombardia ha in mente il movimento? Meno milanocentrica, dove gli interessi dei territori e delle province lombarde siano rappresentate al meglio. E che veda anche come attori molti amministratori locali del nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie.